La quinta edizione della rassegna Gallo Italico, un evento annuale organizzato dall'Ecomusio Petrasgotto di Nicosia con il sostegno dell'amministrazione comunale, ha avuto luogo il 23 aprile. Questo evento mira a valorizzare e preservare la lingua gallo-italica con un focus particolare sull'educazione nelle scuole. Il Cine Teatro Cannata di Nicosia è stato gremito di studenti delle scuole elementari e media, accompagnati da insegnanti e dirigenti scolastici. Il dottor Giovanni D'Urso, esponente di spicco dell'Ecomusio Petrasgotto e appassionato di storia locale, ha introdotto i contenuti della rassegna 2024. I dialoghi storici sono stati riscoperti, resti noti e pubblicati grazie all'istancabile lavoro di Pasquale Calandra, presidente del Centro Studi Will FPL Lavoro e Cultura, la trincea dei diritti. Da anni Calandra si dedica alla riscoperta di personaggi e documenti storici nicosiani. I dialoghi di Torre Fastuga, scritti in gallo-italica, offrono una descrizione vivida della vita a Nicosia all'inizio del secolo, vista attraverso gli occhi di un visitatore statunitense critico verso gli usi e costumi dell'epoca. Le diverse scene sono state brillantemente presentate in lingua gallo-italica da quattro studenti della scuola secondaria di primo grado delle classi I e III C. La classe IV C dell'Istituto Comprensivo Carmine di Nicosia ha magistralmente rappresentato la scena dell'arrivo dell'ospite americano Wills a Nicosia. La classe V C dell'Istituto Carmine di Nicosia ha portato in scena l'incontro di Fastuga e di Wills con allora sindaco, gurgone e un pranzo al ristorante. La classe V B dell'Istituto Comprensivo Carmine di Nicosia ha illustrato la visita dell'ospite americano al quartiere di Santa Maria Maggiore. La classe IV A dell'Istituto Comprensivo Carmine di Nicosia ha rappresentato la visita di Fastuga e Wills nell'attuale piazza Garibaldi, ospiti del Caffè Roma che allora sorgeva accanto alla cattedrale di San Nicolò. Le classi III C, IV A e V C dell'Istituto Carmine di Nicosia hanno rappresentato la visita di Fastuga e Wills al quartiere di San Michele con l'incontro del loro parroco che svolgeva anche la funzione di bibliotecario comunale. La Quinta A del Plesso San Domenico del secondo circolo San Felice ha rappresentato la visita di Tore, Fastuga e Wills alla Società Democratica di Santa Maria Maggiore ed il confronto con due paesani sull'allora morente Carnevale Nicosiano. Infine tutti gli studenti sul palco hanno ballato al ritmo di musica siciliana e hanno ricevuto attestati di partecipazione dai membri dell'ecomuseo. Questa rassegna ha offerto un'opportunità unica per celebrare e preservare la ricca storia e cultura di Nicosia.